Buonasera, professor Guignani. Allora, questa sera parleremo di un evento che ebbe poi molta importanza nella storia della fisica e dell'astronomia. Cosa successe? Era la tarda estate del 1666 e a Londra imperversava prima la peste, poi l'incendio. Un giovane fisico di 24 anni scappò da Londra per andare nella sua tenuta in campagna dove c'erano anche dei bei fruttetti e si mise lì sotto a pensare. E a questo punto successe un piccolo imprevisto. Una mela! Era la mela di Newton. Era la mela di Newton, eccola qua. Naturalmente questa mela fu poi importante per capire tante cose nell'equazione di Newton. Beh, certo, innanzitutto Newton fu il primo a capire che la forza che fa cadere la mela è la stessa che tiene legata la Luna alla Terra e la Terra al Sole. E si capì anche che in un certo qual modo la stessa mela attira la Terra, si è pure di pochissimo. E certo, una volta scritta l'equazione quello si vede perché è del prodotto delle masse. Però Newton non capì che cos'era questa forza di gravità. Che cos'è? Non lo sappiamo molto meglio di Newton, purtroppo, nonostante siamo passati più di tre secoli. Einstein tentò di mettere insieme tutte le forze dell'altura, ma non ci riuscì, non ci siamo riusciti. Però Einstein disse che si deve propagare per onde, le famose onde gravitazionali. Onde gravitazionali, che vanno alla stessa velocità della luce per il 2020. Sì, vanno alla velocità della luce. Diciamo che dobbiamo ancora riuscire a rivelarle, purtroppo. E quindi quando le saperemo queste cose potremmo anche descriverle meglio. Ma questa forza perbade tutto l'universo, la Terra, noi stessi, in fondo siamo strutturati qui sulla Terra con le ossa, i muscoli, proprio in funzione della gravità terrestre. Ma se non ci fosse la gravità cosa succederebbe nel nostro pianeta, nel Sole? Un disastro, un disastro assoluto sì. Se non ci fosse la gravità, diciamo, l'universo non si sarebbe mai formato. Sarebbe una pappetta, una sabbietta di protoni sparsa e le stelle non si sarebbero fatte e noi non esisteremmo. Tra l'altro sappiamo bene che la forza e la gravità è proporzionale alla massa del pianeta. Abbiamo visto gli astronauti solo luna che saltellavano. Ecco, su Marte cosa succederebbe? Su Marte sarebbe uno sballo perché uno con i nostri muscoli terrestri fa dei saltoni di 2-3 metri, facilmente potrebbe rampicarsi all'ottavo grado. Ma soprattutto, se uno dovesse costruire dei templi greci, se ci fossero i greci su Marte, potrebbero fare delle colonne slanciatissime, non così un po' cicciotte come è necessario fare sulla Terra con dei bei capitelli lunghi. Quindi una struttura retichettone che è probabilmente anche umana, filiforme diciamo, o comunque molto più leggera. Tra l'altro se si andasse poi sulle lune di Marte, come Phobos o Deimos, che sono piccole, i salti sarebbero di centinaia di metri. Per il colo si andrebbe in orbita, secondo me, con le gambe. Non tirando un pallone, o meglio una pallina da golf, entrerebbe nello spazio. C'è una cosa interessante di cui si parla poco, è che c'è un punto in cui la trazione gravitazionale della Luna e quella della Terra sono in qualche modo equilibrate. C'è un punto morto, che è il cosiddetto punto di Lagrange. A cosa potrebbe essere utile? Questi punti di Lagrange che sono diversi, ce n'è uno per esempio tra la Terra e la Luna, che Jules Verne chiamò punto neutro perché lui era il più poetico. Sarebbe fantastico perché potremmo farci lì una specie di cantiere navale spaziale, il posto dove assemblare una nave spaziale che poi potrebbe partire da lì con un dispendio minimo di energie. Anziché farla partire dalla Luna o dalla Terra, lì praticamente una volta assemblata potrebbe andarsene con un grosso carico senza dover utilizzare troppo carburante. Oggi si cerca di captare queste onde, anche per capirle meglio. Come si fa a captare un'onda gravitazionale? È molto difficile, sono 30 anni che ci proviamo, cominciò Edoardo Maldi in Italia per esempio e non ci siamo ancora riusciti. Il problema è che ci vogliono dei rivelatori molto sofisticati, delle grandi masse, molto ben isolate, a basse temperature e soprattutto bisogna abbattere il cosiddetto rumore di fondo, cioè un tir o un treno che passano. Ricordo che all'epoca frascati, però bisogna dei cilindri, a temperatura bassissima, sospesi, per cui aspettavano un'onda gravitazionale, una perturbazione per esempio di una supernova. Purtroppo la supernova è venuta ma non si sono viste. Qualcuno riuscirà poi a trovare queste onde. Ma certamente, io sono convinto, è il futuro dell'astronomia, tra pochi anni sicuramente le vedremo e a quel punto, biglietto per Stoccolmo assicurato. Il premio no. Grazie professore.